Il ghiacciaio antartico Totten, uno dei più grandi al mondo, fonde più velocemente del previsto e minaccia un drammatico innalzamento dei livelli oceanici. Lo confermano le ricognizioni aeree condotte dalla divisione antartica australiana e una ricerca pubblicata su Nature Geoscience. Provocando onde sismiche artificiali che permettono di vedere oltre lo spesso strato superficiale di ghiaccio e neve, gli scienziati hanno scoperto che ormai gran parte del Totten è flottante perché è stato eroso da correnti di acqua tiepida e salata che si spingono al suo interno per centinaia di chilometri. Grande come la Francia, se fondesse completamente, il Totten da solo alzerebbe il livello delle acque di circa 3 metri. Secondo la NASA, tra il 2002 e il 2016 l'Antartide ha già perso 125 gigaton di ghiaccio l'anno, mentre dal 1900 il livello dei mari è salito di 20 centimetri che potrebbero diventare un metro entro la fine del secolo.